Che cosa deve diventare per i cittadini del nostro territorio la sede di questo parco? Il parco del Colle dell'Is è nato 15 anni fa, infatti quest'anno festeggeremo insieme ad altri parchi questo avvenimento, il parco di Conca Cialancia, il monte Tredenti e Freidur, il monte San Giorgio e lo stagno di Ulx. Questo, come in altri casi, deve diventare un punto di riferimento per i cittadini che tra l'altro frequentano il Colle in numero molto elevato soprattutto nei weekend per far conoscere l'importanza dell'ambiente e in particolare in questo caso dell'ambiente montano visto che ci troviamo in un territorio a oltre 1300 metri di quota. Didattica ed educazione al rispetto dell'ambiente è importante proprio in un luogo come questo frequentato da molte persone nel fine settimana ma è importante anche per il mondo scolastico, immagino. Certo, noi abbiamo scelto di coniugare il concetto della resilienza visto che il Colle dell'Iste è stato sede oltre 70 anni fa di un importante periodo di resistenza nella seconda guerra mondiale e quindi il concetto di resilienza dell'ambiente e resilienza dell'uomo e quindi da un punto di vista didattico e di istruzione per i cittadini questo è un luogo simbolico tant'è che c'è stata l'inaugurazione domenica scorsa con la manifestazione Euroleas che ha coinvolto centinaia di studenti. Questo può diventare veramente un luogo di relax, lo è già in parte per i torinesi e anche di un luogo in cui si viene a imparare l'ambiente che ci circonda e come lo dobbiamo trattare. Esatto, infatti nelle sale che abbiamo realizzato in una sala abbiamo esposto quelle che sono le principali caratteristiche dell'area protetta quindi i boschi, le strutture geologiche, la flora e la fauna che sono presenti per dar modo ai cittadini di approfondire un pochino queste tematiche. Molti decenni fa, 80-90 anni fa, un piano di rimboschimento e quindi abbiamo boschi di larici. Oggi la città metropolitana ha elaborato un piano di gestione forestale che cosa dovrebbero diventare nei prossimi anni e decenni questi boschi? Sì, diciamo che i boschi che ci sono sulla proprietà della città metropolitana di Torino che ricordiamo è proprietaria dei terreni del parco e di circa 360 ettari sono circa il 50% rimboschimenti di larice e di pino nero. Non sono specie originarie del contesto e quindi il piano di gestione servicolturale che abbiamo elaborato anni fa insieme al Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha l'obiettivo man mano di ritornare alla vegetazione spontanea che era a prevalenza di aceri, frassini, tigli e quindi di latifoglie spontanee.